Come ti chiami? Tu? Mi chiamo Ari E tu sei uno str... Uno stronzo... Uno stronzo? Una merda stronzo No è vero Non è vero? Lo dico solo per parlare l'italiano Si è ancora Tu, tu... Did you like Marzia? Molto Dai un bacio Mano, mano No, no Kiss a hand, con lingua Specialista, vai Bravo Max, una lunga intervista, questo uomo sta bene? Mi si vuole maldette Mi ha paura proprio Stai fuori con l'accuso Saluta l'Italia Viva Italia Buona